Caltagirone monta la protesta dei genitori degli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Giorgio Arcoleo di Caltagirone, per i quali si profila un futuro incerto in relazione alla scelta del loro indirizzo scolastico, il primo dei quali è denominato AFM, Amministrazione Finanza e Marketing, che forma tecnici contabili. L'altro corso è quello del turismo che garantisce sbocchi occupazionali in questo settore, formando esperti nei campi paesaggistici, culturali ed enogastronomici. Ci hanno informato l'Istituto che praticamente gli iscritti ragazzi del corso AFM Marketing rischiano di essere trasferiti a settembre nel corso turismo. Tutta un'altra cosa da quello che hanno scelto i ragazzi e questo nei genitori non va bene. Il problema sollevato è che su 40 studenti del piano formativo AFM, Amministrazione Finanza e Marketing, che hanno frequentato il secondo anno e dovrebbero passare al terzo, 14 di loro devono necessariamente transitare al corso ed indirizzo turistico. La situazione è che i ragazzi sono 40 e per creare due classi, cioè una classe diventa poi da 30 studenti e una classe di 10, vengono accoppati nell'altra sezione. Allora succede che il futuro di questi 40 ragazzi dovrà essere scelto a tavolino da dirigenti che non lo so, che faranno a sorteggio, un pezzetto di carta. Gli insegnanti non ci hanno detto nulla. Quindi è importante che la scuola sia formativa per i nostri ragazzi, non decisionale, così, con una specie di pezzetto di carta o con un sorteggio. Il provvedimento assunto dalle autorità scolastiche, secondo quanto riferito dai genitori, sarebbe scattato d'ufficio e indirettamente creerà ripercussioni e determinerà la perdita della dirigenza, preside e un segretario. E con la ripresa delle attività scolastiche, la scuola dovrebbe andare in reggenza. Sicuramente questo qua sarà il primo passo per chiudere questo istituto qua a Caltaginone. L'abbiamo visto già l'esempio con l'istituto agrario, oppure come ci stanno provando con l'istituto della ceramica, che lo vogliono chiudere, lo vogliono declassare. Quindi sicuramente anche questa situazione rientra in una strategia per chiudere questo istituto. Il motivo c'è di chiudere il corso di ragioneria qua a Caltaginone, oppure perché non possiamo fare due aule, visto che poi il governo centrale sta dicendo che deve assumere 100.000 insegnanti. Quindi dove sono questi problemi? Nel contesto di queste argomentazioni prevale dunque la logica del risparmio, anche perché la scuola conta una popolazione scolastica di poco più di 600 studenti, dai quali sottraendo i 14 con la decisione d'ufficio si passerà al sottodimensionamento, innescando le conseguenze del caso. Siamo disposti a fare la qualsiasi azione affinché questo venga a meno e di continuare così come è stato fatto fino a pochissimi giorni fa. Un'altra cosa che stranizza un po' tutti noi genitori è che anche la parte politica viene ammangata, in questo momento così delicato.